Il navello davanti a noi, il navello testo da un quadro, la galleria, la galleria, la galleria, i spilanci. Sì. Sotto lì, guarda, Maiori sullo sfondo, questo è l'auditorium in costruzione. Sotto lì, guarda. Il navello è più difficile. Pannu a noi, il navello, il navello è verso il posto. Maiori sullo sfondo. brevissima brevissima pausa a ravello per inquadrare un autentico play un chiave tiro senza pari sulla faccia della raffare night insieme ai due figliozzi come ci dobbiamo lilla ma in che senso si leva si è troppo piccolino ma sono troppo piccoli perché ce le sono fatte per i grandi ecco la visparella verdina e la visparella cromatina adesso ripartiamo per mi piace fare le riprese mi piace fare le riprese mi piace fare le riprese la panoramica è bella vai la piscina e il giro bene panoramica si inquadra scala a malpila panoramica su scala bravo bello inquadra sta casettina inquadra anche i cartelli stradali in modo che ci si rende conto anche dove è che stiamo piccola inquadratura del cartello qui è scala di ravello pieza sopra ravello sopra poi si vede solo roba verde non si vedono la chiesa e tutta la chiesa avanti inquadra su quella e poi chiude inquadra tempo reggia qualche seconda e chiude che si vede solo Grazie.